La Turris riprende la corsa interrotta la settimana scorsa travolgendo per 3-0 il mancapitato Palermo al termine di una prestazione tra le migliori offerte fino a ralliguri dalla squadra di Caneo. I Corallini che stanno vivendo una fase di stagione molto positiva sotto il punto di vista del gioco partono subito forte con Santaniello che prova a incunearsi nella difesa siciliana anticipando l'uscita del portiere ma non trova la porta. Al ventunesimo è il Palermo ad andare vicino al vantaggio con Doda che schiaccia di testa ma Varutti salva sulla linea. Alla mezz'ora ancora un'incursione in area di Santaniello che questa volta viene atterrato da Peretti ed è calcio di rigore. Già non è calcio forte ma Pelagotti si supera respingendo il tiro poi la difesa libera. Poco male perché pochi minuti dopo la Turris passa con Santaniello che di testa raccoglie un perfetto cross di Franco Pelagotti respinge ancora ma sulla ribattuta l'attaccante Corallino stavolta non fallisce. Allo scadere di frazione raddoppio Corallino, Tascone in percussione centrale Servio Leonetti lasciato colpevolmente solo al limite dell'aria che trafigge di nuovo l'estremo difensore Rosa Nero. Nella ripresa il copione non cambia con la Turris in controllo e il Palermo con poche idee è quasi mai pericoloso. A metà secondo tempo ancora un rigore per i padroni di casa con Franco che prima con una bella azione entra in area procurandosi il fallo poi si presenta lui stesso dal dischetto ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa fallendo il secondo penalty di giornata. Dall'olio per i siciliani prova a riaprire il match con un bolide da fuori, poi mischia in area ed Essili può andare vicinissimo al gol ma c'entra la traversa. Sul ribaltamento è Tascone a fallire il più facile dei match ball. Nella recuperazione del neoentrato Longo la sua conclusione è ribattuta dalla difesa con il palone che si impenna e su cui arriva un altro neoentrato Pavone che al volo con una perfetta rovesciata sigla probabilmente il gol più bello della stagione Corallina. La fischio finale è tripuglio da parte del numeroso pubblico presente sugli spalti per una turist che si innalza al terzo posto in classifica e arriva col morale altissimo all'impegno di mercoledì alle 20 sempre a Ligori contro il Campobasso.